Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pancrazio ha insediato questa mattina all'Aquila la Commissione sui Tribunali Non Provinciali, istituita con la legge regionale numero 10 del 2017. All'incontro hanno partecipato in rappresentanza dei consigli forensi di Avezzano, Lanciano, Sulmone e Vasto, i rispettivi presidenti Franco Corucci, Silvana Vassalli, Gabriele Tedeschi ed il segretario dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, Alessio Mucci. Abbiamo fatto un ottimo lavoro soprattutto con lo spirito della condivisione, spirito di condivisione che ci ha portato a fare un calendario di lavori in tempi molto stretti. Entro la primavera pensiamo di produrre un documento da poter presentare all'attuale o nuovo governo insieme al presidente dell'Aggiunta regionale Luciano D'Alfonso. Devo dire che c'è stato molto entusiasmo ma soprattutto una partecipazione attiva da parte degli ordini con un modo costruttivo di procedere, con la massima condivisione in modo tale da poter rilevare un lavoro importante di pregio che sicuramente sarà un lavoro che porterà riflessione al ministro della giustizia ma soprattutto al governo. Faremo valere le ragioni dei tribunali non provinciali facendo capire che c'è bisogno di queste istituzioni non solo per garantire legalità nei territori ma anche per costruire un futuro territoriale importante per l'intera regione Abruzzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.